A chi è il vincitore? Conceda al perdente le onoranze funebri e rituali. Non si fanno patti tra leoni e uomini. Ora sai con chi ti batti. Io credevo che fossi tu quello di ieri. E magari lo fossi stato, ma ho concesso al cadavere l'onore dovuto. Gli hai concesso l'onore della tua spada. Non avrai gli occhi stasera, né orecchie, né lingua. Vagherai nell'oltre tumba cieco, sordo e muta. I defunti diranno, ecco Ettore, lo stolto che credeva di aver ucciso Achille.